Sono Antonella De Rosa, dirigente dell'Inca S.P.A. L'Inca S.P.A. è un'azienda che opera da 40 anni nel settore dell'edilizia, svolge attività di lavorazione di prodotti da estrazione, produce conglomerati cementizi e bituminosi e manufatti di prefabbricazione civile, industriale e del mondo della zootecnia. Per la nostra attività utilizziamo pale, damper e automezzi per trasporto eccezionale dai nostri manufatti. Ai pneumatici montati sui nostri automezzi chiediamo affidabilità, resistenza e dei grip su fondi a scarsa aderenza. In particolare, per i nostri damper abbiamo scelto il pneumatico ricostruito MADN, che ci garantisce un'eccellente trazione ed un'alta resistenza a tagli, urti e lacerazioni, riducendo anche i costi. Quindi mi sento di consigliare ad altre aziende del settore il pneumatico ricostruito della Marangoni. Grazie! Grazie! Grazie a tutti